Un parere di conformità amministrativa rispetto alla delibera di giunta al fine di certificare se l'oggetto della deliberazione sia di competenza della giunta o del Consiglio Comunale. È la richiesta avanzata al Comune dall'Associazione Civicamente in merito alla questione dei casoni d'oria dopo la decisione dell'esecutivo guidato dalla sindaca francese di non esercitare il diritto di prelazione all'acquisto. La presa di posizione sulla vicenda fa seguito a quella di legambiente che ha sollevato la possibile illegittimità nella delibera in considerazione del fatto che il testo unico sugli enti locali attribuisce la competenza esclusiva in materia di acquisti e vendita degli immobili al Consiglio Comunale e non all'aggiunta.